. Una notizia spiazzante se si pensa che tra le due, c'è sempre stato un legame di forte amicizia. . Eppure, la conduttrice di Domenica Ina ha fatto coming out ammettendo di non vivere un bel periodo con la collega napoletana. Ma chiedetelo a lei il perché?. Intanto, durante la puntata di venerdì 5 ottobre, Barbara Durso è andata su tutte le furie a pomeriggio 5. . 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 Quando è davanti alle telecamere, la Dulce dà tutta se stessa. In questo modo fidelizza il suo pubblico che la segue in televisione 7 giorni su 7, e anche sui social, dove può vantare milioni di seguaci. .